Una volta che ha battuto la Juventus in casa, ora attacca la squadra di Ranieri Tiago ha visto il corridoio per Nedved, Nedved, Iaquinta, Iaquinta, va al tiro e la parata dopo una certa alternanza, intanto Iaquinta, Iaquinta palla dentro ma tagliavento, ha visto la segnalazione del secondo assistente e busto e quindi poteva anche essere in posizione regolare intanto una conclusione della Lazio con deviazione Nedved, c'è anche Tiago che si propone in attacco, Molinaro, il cross scavalcato Iaquinta ma c'è Marchionni e la palla finisce dentro per il vantaggio della Juventus Foggia, Foggia per Rocchi, posizione regolare, tiro, Manninger respinge poi c'è Grieger in tre della Lazio cercano di creare il buco sulla punizione di Ledesma, Manninger anche una grande finale con l'Inter ma la Lazio cerca, non vuole rendersi, Rocchi, Rocchi forse è andato a cercare l'assist, Mattusalem, Manfredini, entra anche Foggia in area partito di traversone, va Rocchi la Lazio ha vinto le quattro partite precedenti in questo torneo ora però deve risalire la china, Rocchi, poi Foggia, Foggia, passaggio di giustezza e respinge Manninger con la conclusione di Richtsteiner, ancora Pandev ed è il pareggio della Lazio, il pareggio che arriva al ventesimo del secondo tempo, Lazio 1, Juventus 1, Pandev ancora lui, Lazio che vuole ribaltare la situazione, ora il tiro di Foggia e con la punta delle dita, Manninger in azione, Rocchi cerca direttamente il gol, Foggia, Foggia, Foggia è al centro, sinistro morbido per Mauri che controlla, va al tiro Mauri però Mattusalem per primo sulla palla, poi Pandev, Mattusalem, Rocchi, Rocchi è in area e c'è il vantaggio della Lazio, Rocchi e Pandev hanno ribaltato la situazione